Eder, Eder, punta Isien, viene fermato da De Jong, ottimo, tocco in orizzontale, permanezza, Buona velocità, buona velocità, El Sarawi, a spazio, El Sarawi, El Sarawi, in velocità, El Sarawi, El Sarawi, tiro, gol, gol, il palone l'ha messa, ed è gol, Dalla sinistra, di destro, infilla l'angolo più lontano, nulla può Romero, Romero, non ci arriva, ed è gol, El Sarawi l'ha messa, e andiamo, grandissimo gol, Stefano El Sarawi, che gol El Sarawi che non segnava da febbraio 2013, Trova il gol, si sblocca, Cristian, lo fa la grande, perché questo è l'Argentina, un golasso, un golasso si dice in Argentina, Paolo. 3 minuti di recupero, attenzione alla Sampdoria, attacca la Sampdoria, cross, gol della Sampdoria, Okaka, cross alla sinistra, Okaka, anticipa, sottomisura, e al 45esimo la mette, c'era un minuto di recupero, alla dentro, gol, gol di Eder, 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 e la rifesa ancora, sugli sviluppi di una rifesa del Milan, sugli sviluppi di un angolo, una dormita generale. Attenzione, Menez, Menez, dalla sinistra, Menez, in area, oh, calcio di rigore, calcio di rigore per il Milan, calcio di rigore per il Milan, Ma cos'è successo, Tiziano? Calcio di rigore per il Milan, calcio di rigore per il Milan, calcio di rigore per il Milan. Menez, contro Romero, Menez, gol, Jeremy, Menez, da dischetto la messa, quarto gol, Jeremy, Menez, ed è gol, ed è gol, 2-2, e andiamo, e andiamo, e andiamo, e andiamo, e andiamo, piazza Romero, un piatto destro, 2-2, e andiamo.